Sono male, per quanto riguarda i tre candidati. Se vuole ce l'ho, la posso aiutare in questo senso. C'è un'inchiesta giornalistica che parla del fatto che potrebbe essere successo ad Ercolano in un centro di accoglienza, ad esempio, che le persone richiedenti asilo di questo centro di accoglienza siano state portate a votare alle primarie del PD a favore di Renzi. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto che il Ministro Uniti venga in Parlamento a riferire su questa cosa. Scusate. Questo non è sicuramente qualcosa che può velocizzare l'itere di...